come si crea un servizio allora se avete installato l'extension che vi avevo suggerito è una delle una delle di snippet che vengono forniti è usata non ve l'ho fatto vedere service a service ovviamente possiamo crearlo anche da angular cli però in questo momento abbiamo usato questo modo e qui lo andiamo a chiamare a del service ora non visto a se ve lo spiego subito provided in root significa che questo servizio sarà iniettabile all'interno della nostra intera applicazione cosa significa iniettabile significa che dove mi servirà sarà disponibile questo servizio come si fa a iniettare questo servizio molto semplice andiamo ad esempio nel nostro component nel left component e nel costruttore ad esempio eccolo qua dichiariamo con nome di una variabile address service due punti address service ok quindi adesso qui mi dà questo errore ad import ok e qui praticamente iniettiamo il servizio come possiamo vedere se effettivamente lo inietterà nel costruttore in questo momento facciamo nient'altro che un console log address service costruito anzi istanziale costruito vabbè address service basta ok andiamo a vedere qui sempre nella nostra video console dei sviluppatori ok togliamo via modalità mobile andiamo su console salviamo il tutto e praticamente vedete che l'ha creato senza che noi abbiamo fatto granché abbiamo soltanto iniettato nel costruttore abbiamo iniettato scusate abbiamo iniettato qui abbiamo iniettato e quindi angular lo crea per noi crea l'intera classe ora valerio ci chiedeva se c'era differenza tra iniettare nel costruttore e usare l'inject allora l'inject in realtà è una delle ultime novità se non ricordo male dovrebbe essere d'angular 15 ok cioè invece di iniettarlo all'interno del costruttore quello che posso fare è dichiararlo in questo modo questo è la stessa sintassi se io faccio salva come potete vedere viene comunque sia creato ok ora andiamo ad esempio nel nostro ad service noi qui sulla left bar avevamo test search poi quando veniva premuto il pulsante se vi ricordate veniva fatta questa operazione asincrona dove veniva creato l'open street my provider faceva questo andiamo a mettere questa logica all'interno del nostro servizio quindi ci copiamo il tutto andiamo nel nostro servizio grazie arpeggio grazie per il follow ok e qui ad esempio facciamo una function che chiamiamo ricerca indirizzo ok e tipizziamo anche che non avrà risposta almeno al momento non ce l'avrà ok copiamo il tutto e andiamo a vedere un attimo che cosa succede allora l'open street map provider come abbiamo visto l'altra volta lo importiamo così siamo a posto c'è la wait quindi questa deve diventare una funzione asincrona qui togliamo via il void ci serve il test search cioè ci serve il parametro di ingresso quindi test indirizzo indirizzo tipo stringa quindi nella query metteremo indirizzo ok qua nel risultato andavamo a prenderci siccome ci dava una lista di risultati andiamo a prenderci soltanto il primo e poi facevamo limit ora a questo punto limit non lo facciamo perché non siamo all'interno di un componente quindi definiamo una variabile private ok e che chiameremo indirizzo ricercato e sarà di questo tipo se vi ricordate avevamo tipizzato anche l'event emitter quindi posso tranquillamente prendermi questo type lo importiamo qui può essere o questo oppure undefined perché ovviamente può anche non esserci se non ho premuto il pulsante cerca non ci sarà niente e quindi andremo a settare vis.indirizzo ricercato uguale uguale al valore che facevamo prima l'emit ok né più né meno ok ok andiamo a fare una get indirizzo ricercato ok dove ritorneremo vis.indirizzo ricercato ok perfetto e quindi abbiamo creato il nostro servizio la logica è tutta quanta qui dentro potremmo anche a questo punto separare l'openstreetmap provider in maniera tale che venga creato un'unica volta poi lo facciamo e adesso abbiamo creato il nostro servizio e dobbiamo iniziare a usarlo quindi nel componente qui facevamo tutta questa logica ovviamente non ci serve più perché la logica l'abbiamo incapsulata all'interno dell'addresservice quindi che faremo andremo a vis.addresservice.ricercaindirizzo ricercaindirizzo gli serve indirizzo string quindi gli passiamo il vis test search ok perfetto a questo punto abbiamo stiamo sfruttando il servizio per andare a fare una ricerca di un indirizzo ovviamente se adesso io provo non funziona nulla perché perché prima avevamo le meet no prima facevamo con l'output dell'indirizzo ricercato adesso invece abbiamo tutto quanto all'interno dell'addresservice quindi commentiamo l'indirizzo ricercato ovviamente ci darà un errore perché perché stiamo cambiando la logica del componente prima eravamo in ascolto sull'event meter dell'indirizzo ricercato quindi andiamo a modificare l'indirizzo ricercato qui non abbiamo più questo output e dobbiamo andare a modificare il nostro app component quindi andiamo su controller eccolo qui qui facciamo la stessa identica cosa private address service uguale inject address service ok a questo punto non saremo più in ascolto di delle meet ma dovremmo in address service prima abbiamo creato questa variabile questa property no che ci dà l'indirizzo ricercato e dobbiamo trasmetterla al nostro diciamo alla nostra direttiva quindi togliamo via il private ok quindi la rendiamo pubblica questo address service andiamo nell'html ok e qui il center to map noi l'avevamo su centra la mappa che era questo ovviamente anche questo non ci servirà più perché l'abbiamo all'interno dell'address service e qui facciamo come l'ho chiamato address service punto indirizzo ricercato se adesso salviamo ridigitiamo Milano facciamo la ricerca e come vedete continua a funzionare ma in questo caso la logica è tutto all'interno del servizio come vedete perché abbiamo messo nel servizio abbiamo messo provided in root perché gli stiamo dicendo che questo servizio è a livello applicativo quindi su tutto quanto root perché la dependency injection di angular è una dependency injection di tipo hierarchy quindi diciamo che il componente padre può dare dei servizi diversi ai figli ciao Marco ciao ok quindi cosa succede andiamo a vedere nella pratica che cosa significa quello che ho appena detto se qui abbiamo un altro tipo di property che si chiama providers ok nei providers possiamo dire di creare da questo componente e tutti i suoi componenti un servizio specifico se io adesso qui gli dico address service e salvo come vedrete ecco qui vedete l'ha creato due volte uno è a livello applicativo ok e uno è quello che è all'interno del nostro componente quindi se adesso riprovo a fare la nostra ricerca non funziona perché perché da left component quindi dal componente left in su e non ci sono altri componenti che se andiamo a vedere l'html qui non c'è niente è diverso rispetto a quello del livello applicativo quindi abbiamo due servizi diversi come potete vedere anche qui in console ovviamente se io qui adesso vabbè faccio una cosa un po' brutta ci ammettiamo app footer ok l'ho chiamato app footer app footer vediamo un po' come l'avevo chiamato si app footer ok se adesso qui aggiungiamo questo componente uso questo soltanto perché ce l'ho già pronto non volevo creare un altro ok lo importiamo come stand alone component che stiamo lavorando con la nuova versione quindi abbiamo tutto come stand alone ok adesso avremo eh sì certo se non salvo ok avremo anche il footer works ok se qui nel costruttore ci aggiungiamo anzi senza costruttore ci mettiamo address service uguale inject address service ok quindi lo rendiamo pubblico e sull'html facciamo un data binding con address service punto indirizzo ricercato in questo momento non mi fa vedere nulla ma se io faccio Milano e faccio cerca mi salta fuori l'object ok vi è chiaro come funziona l'irerkey injection avete visto quindi se io ad esempio definisco all'interno di un component il provider se ci metto un servizio avrò creato un altro servizio che è valido da quel componente e i suoi figli ok ok vi faccio vedere una cosa anche se non abbiamo ancora affrontate le pipe se io qui ci metto json e magari voglio anche metterci il pre per visualizzare meglio il contenuto ma le pipe le vedremo prossimamente ok qui adesso mi dice che devo importare common common module ok salvo il tutto aspettiamo che riparta Milano faccio la ricerca ecco così ho la visualizzazione in formato json del dato che è stato ricercato ok ovviamente se adesso commento dal mio left component questo provider l'applicazione userà un solo address service come potete vedere e se io iscrivo Milano come potete vedere è tornata a funzionare ok voi potreste dire vabbè ma che mi serve l'irarchy injection cioè che serve beh può essere utile magari in quei casi dove dato uno stesso service voglio averne due differenti versioni per componenti diversi esempio non so se faccio delle chiamate HTTP magari da un componente vorrei avere che magari tiene lo stato tiene lo cache di questa chiamata HTTP vorrei avere la possibilità di averne due versioni differenti perché magari in una dashboard magari a sinistra faccio vedere che ne so un riepilogo e magari sulla destra un dettaglio e non voglio quello della destra deve essere aggiornato in tempo reale quindi non voglio caching o cose del genere ok quindi fino a qui sembra molto 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 semplice in realtà con i servizi si possono fare tante altre cose ok che adesso andremo a vedere allora chissà perché quando si inizia a sviluppare in javascript o comunque sia con dei framework che sono più lato web molti iniziano a dire che non è programmazione ma è scripting o peggio ma perché principalmente ci si dimentica che ad esempio in Tapskitt è sempre programmazione oggetti e si può usare tutto quello che deriva dalla programmazione oggetti quindi iniziamo a vedere ad esempio un esempio che si può trovare anche in Angular.io se volete documentarvi volete approfondire in Angular.io ci sono tante guide che vi possono aiutare anche a comprendere magari meglio i servizi ciao grazie del follo Fabio che carino che sei grazie Fabio allora adesso sono emozionato c'è Fabio in chat e come faccio annaggia grazie Fabio fammi una parola di incoraggiamento ok e andiamo a creare un servizio di logging ok quindi facciamo logger.service.ts e come abbiamo visto prima lo andiamo a creare tramite lo snippet ok e qui lo chiamiamo logger.service qui che facciamo facciamo un unico metodo che chiameremo log msg dei punti string dei punti void e andiamo a stampare sulla console in questo momento grazie Fabio e andiamo a stampare sulla console un eventuale un eventuale log ok console ecco vedi mi sono già log mettiamo il messaggio e abbiamo finito quindi abbiamo creato un servizio di logging molto semplice lo andiamo a iniettare ad esempio nel nostro app component ok quindi faremo così log service uguale inject e vabbè inject log service niente ce la possiamo fare log service ok ora ritorniamo un attimino indietro nei nostri passi riabilitiamo un attimo l'event emitter togliamo via l'address service ritorniamo indietro quindi nei nostri passi perché vi voglio far vedere anzi no c'entra la mappa vabbè facciamolo così c'entra la mappa ci riserve andiamo a rimettere come era prima qui c'entra la mappa perfetto andiamo a riemettere qui il nostro indirizzo ricercato e andiamo a risistemare come era prima ok perfetto adesso dovrebbe andare cerchiamo Milano facciamo la ricerca non funziona evidentemente eh sì qui ho dimenticato di mettermi in ascolto sul click uguale ho un indirizzo ricercato dollaro event ok eh mouse event is not assignable per quale motivo certo eh posizione un indirizzo ricercato mh andiamo sull'up left auto indirizzo ricercato questa cosa qui mh chi è che ho dimenticato dollaro event andiamo a vedere le modifiche lo andiamo a ripristinare come erano prima ah ok quindi discard changes adesso io metto Milano dovrebbe andare infatti ok quindi eh esatto esatto ok e siamo di nuovo è ritornato a rifunzionare ok ora nel nostro app component qui abbiamo iniettato log service quindi qui facciamo this.logservice .log indirizzo ricercato ricercato ok quindi se io ricerco venezia faccio cerca e c'è il mio log magari facciamo così nel log service ci mettiamo anche log log service dollaro usiamo la string interpolation ok andiamo a rivedere se mettiamo Roma a questo punto tanto per vedete logger service quindi il console log viene fatto dal logger service ok perfetto ora questo servizio è molto semplice ciao Pierolo grazie del follow ok quindi questo è molto semplice vediamo di estenderlo ok cosa vogliamo creare questo logger service magari per debug o comunque sia in sviluppo può esserci utile magari per vedere in console tutti i log che sono applicativi ma supponiamo che a un certo punto ci venga richiesto questo log che ne so di trasmetterlo a un API che si occupa della registrazione di questo indirizzo ora in questo caso è molto semplice perché basta che creo un nuovo servizio addirittura cambio questo e ho risolto il problema in realtà magari questo servizio è disponibile soltanto in produzione quindi non posso usarlo in fase di sviluppo perché funzionerà soltanto in produzione e non in sviluppo quindi che che possiamo fare possiamo creare un altro servizio ok andiamo a creare un altro servizio e lo chiameremo better logger service ok diamo la stessa firma ok qui non metteremo logger service ma metteremo better logger service ora in questo caso faccio la stessa identica cosa ma è solo a scopo didattico quindi vi voglio far vedere questo giochino ok quindi ho due servizi se adesso io scrivo Roma ovviamente funzionerà il primo e però dobbiamo andarlo a cambiare supponete che questo logger service sia in tutta la nostra applicazione che abbiamo un sacco di componenti un sacco di servizi e vi dicendo magari il better logger service ha bisogno anche di un servizio http client che vedremo in futuro come faccio a cambiarlo allora andiamo nel nostro app component ok qui andiamo a fare la prima modifica circola qui usiamo providers che abbiamo visto prima per creare due istanze dello stesso servizio in questo caso diremo che per il servizio per il servizio logger service vogliamo usare invece il better logger service quindi provide logger service virgola use class better logger service ok quindi l'abbiamo definito a livello di app component in realtà sarebbe più corretto metterlo a livello di app config ma dopo lo faremo intanto vi faccio vedere cosa succede adesso ok quindi io ho detto providers per questo servizio non usare questo ma usa il better logger service andiamo a vedere mettiamo Roma faccio cerca e come potete vedere abbiamo il better logger service questo è un modo proprio per cambiare la dipendenza ad esempio un 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 modo per fare unit test è proprio questo cioè cambiare dei servizi magari che fanno delle chiamate http con dei servizi di mocking ok quindi che magari abbiamo già dei dati preparati per fare uno unit test sui vari componenti e quindi uso il provider proprio per cambiare la dipendenza da un servizio a un altro ovviamente se nel better logger service ok quindi andiamo qui ci aggiungiamo un altro servizio ok che possiamo chiamare ad esempio che ne so come possiamo chiamarlo possiamo chiamarlo vediamo un po' user service perché voglio sapere anche il nome utente che si collega user service ok in questo caso user service facciamo una get username ok e qui ritorniamo return alberto ok quindi abbiamo uno user service lo posso iniettare sull'altro servizio sul better logger service user service due punti user service e qui magari oltre a metterci il messaggio ci possiamo mettere meno e dire dammelo user service punto username ok non so se riuscite a vedere ok quindi avremo la scritta better logger service e lo username dell'utente connesso che in questo momento ho moccato ovviamente quindi avremo sempre lo stesso se io salvo e qui scrivo spinea faccio la ricerca come vedete se abbiamo better logger service alberto e non ho dovuto dirgli qual è e da dove andassi a prendere user service perché perché le debiti injection di angular lo prende in modo automatico ok come vi sembra fino a qui avete visto com'è semplice sempre nei providers e sempre cambiando le dipendenze posso dirgli provider due punti user service virgola qui posso dirgli di usare ad esempio un valore specifico ok quindi posso proprio cambiare guardate faccio prima farvelo vedere dico use value due punti faccio una graffa username due punti e qui ci scriviamo from provider prima che vi spiego cosa succede proviamo a fare una prova cerca guardate cosa ha scritto from provider te gli ho detto guarda per quanto riguarda user service utilizza il valore per username from provider quindi ho sovrascritto lo user service questa proprietà qui cosa posso fare però sempre con i servizi posso intanto migliorarli poi vediamo un altro modo per cambiare il provider allora ritorniamo al nostro logger service ovviamente vi ho detto che la firma deve essere uguale se io adesso qui metto log1 errori a compile time non ne ho vedete ha funzionato ma se adesso la persona scrive milano e fa cerca abbiamo un errore perché perché il servizio che ho cambiato nel nostro app component non ha la stessa firma del metodo che sto usando vedete qui ho cambiato da logger service butter logger service e il better logger service non ha la stessa firma del metodo cioè del servizio che io sto sovrascrivendo ok quindi che cosa posso fare posso fare nient'altro che creare una classe astratta ok che mi permette di avere la firma del metodo che io voglio avere ad esempio due logger service quindi creiamo una classe astratta quindi class minimal logger ok qui mettiamo abstract log msg di tipo stringa che non ritorna niente ok a questo punto il mio logger service diciamo che estende minimal logger qui ci mettiamo un bel super perché quando ereditiamo una classe astratta tabs vuole che ci metta un super ok lo stesso lo facciamo sull'altro logger quindi qui extents minimal logger qui mettiamo super però come vedete mi dice che c'è un errore perché se noi andiamo sopra mi dice guarda che il better logger service non implementa tutti i metodi astratti di minimal logger quindi qui devo rimettere come prima a questo punto sull'app component quindi andiamo qui invece di dirgli logger service gli diciamo minimal logger ovviamente adesso non dovrebbe funzionare eh no funziona perché abbiamo better logger service però dove andiamo usare il nostro logger service ad esempio qui invece di dirgli logger service diciamo minimal logger service perché vogliamo usare quello che stiamo sovrascrivendo quindi questo andiamo a scrivere il comportamento è sempre lo stesso però abbiamo centralizzato e abbiamo degli errori a compile time nel caso in cui andiamo a scrivere un altro logger service che è eredita da minimal logger service è questo che vi dicevo all'inizio cioè anche se siamo in un ambiente web e usiamo angular e via dicendo e comunque sia ad esempio l'ereditarietà possiamo usarla anche all'interno di typescript nulla ci vieta di poterlo di poterlo usare ok quindi se mi serve un altro metodo qui facciamo abstract che ne so un altro metodo set username ad esempio un username ovviamente mi andrà in errore e mi dirà oh guarda che devi implementare i metodi nei vari servizi ok perfetto andiamo a vedere un altro modo per poter creare il servizio ok registrazione del provider dei metadati consente inoltre ad angular di ottimizzare un'app rimuovendo il servizio dell'applicazione compilata se non viene utilizzata è certo infatti prima quando abbiamo creato il servizio non ha non l'ha compilato perché non l'avevamo mai usato quindi se ad esempio uso è un servizio come potrebbe essere che ne so l'address service e non viene mai utilizzato nei vari componenti il compilatore di angular non lo compilerà quindi non farà parte poi del bundle finale della nostra applicazione ok un ultimo modo per poter configurare i servizi è tramite il factory e adesso andremo a vedere ok allora intanto quello che posso fare è definire ad esempio una variabile possiamo definire una variabile di tipo use fake virgola use valve use valve due punti true ok quindi stiamo definendo una variabile tipo use fake e gli assegniamo il valore true ok adesso andiamo nel nostro logger service siamo nel better logger service ok e qui diciamo che vogliamo questa variabile use fake due punti use fake ora mi sta dando un errore perché mi dice guarda che intanto non riesce a trovare questo nome della variabile ma devo dirgli che è una dipendenza ok quindi devo dirgli che questo use fake inject ok scusate non è così use underscore fake ok aspettate un attimo cos'è che ho sbagliato inject giusto lei maescola qui devo importarlo ok qui devo dirgli il nome della variabile use fake qui diciamo di nuovo correttamente use fake ok e qui oltre allo user service ci mettiamo anche use fake ok use fake magari se ci metto anche il vis ok adesso qui mi sta dicendo eh certo se non salvo tutto ok adesso l'errore non c'è più e io cerco Milano facciamo la ricerca come vedete lo use fake è true perché perché ho definito questa variabile all'interno dell'app component e diciamo che la variabile use fake ha il valore true qui potrei metterci ad esempio base address quindi per determinare qual è ad esempio l'url delle chiamate al back end ma lo use fake in questo caso lo usiamo per per un altro motivo per un altro scopo ok eliminiamo un attimo commentiamo un attimo questa sezione e andiamo a decidere sulla base di questa variabile quindi su use fake se creare il logger service o il better logger service ok quindi gli diciamo provide due punti minimal logger virgola diciamo use factory quindi sulla base di altre cose andremo creare il nostro servizio ok quindi mi servirà lo use fake che sarebbe questa variabile virgola di tipo booleano per il momento ci accontentiamo di questa ok a questo punto decidiamo se use fake poi lo estendiamo meglio questo esempio così ve lo ripropongo in un altro modo ok se use fake usa logger service voglio magari new logger service altrimenti usa better logger service e magari se ci metto il new andrebbe anche ora qui il better logger service mi dà un errore perché mi dice che gli serve anche user service ok quindi per importare anche questo servizio qui gli dico di farmi passare anche user service due punti user service ora dopo che abbiamo definito tutta questa cosa dobbiamo dirgli quindi lo passiamo a better logger service user service mi basta questo? ah gli serve anche lo use fake vedete c'è lo use fake c'è lo use fake e lo use service ok quindi use fake virgola user service ovviamente era il contrario ok adesso il costruttore continua a funzionare infine dobbiamo dirgli le dipendenze quindi le dipendenze sono lo use fake che è questa variabile qui che abbiamo definito come provider e cosa dobbiamo dirgli lo use service dobbiamo dirgli user service ok adesso salviamo quindi sulla base dello use fake avremo o il logger service o il better logger service andiamo a fare milano facciamo una ricerca ah togliamo via quello del left se no non comprendiamo più che cosa succede qui togliamo via questo ok andiamo a risalvare rimettiamo milano facciamo una ricerca come vedete sta usando logger service ma se vado qui e gli dico false e rifacciamo la nostra esperimento sta usando better logger service non solo sta usando better logger service ma sta usando anche lo user service che a sua volta l'abbiamo sovrascritto con lo username quindi vedete come potente l'injection di angular mi permette di sovrascrivere i servizi di creare anche delle factory sulla base delle condizioni o degli environment e via dicendo e verranno riutilizzati i servizi che vengono creati ovviamente io adesso l'ho messo qui sull'app component ma la cosa più giusta sarebbe andare nell'app config e definirli qui come vedete c'è già provide router che serve appunto per la gestione dei routing ma quello che posso fare ad esempio è spostare questo e definirlo qui ovviamente devo importare lo user service salviamo tutto se adesso rifacciamo vedrete che continua a funzionare però qui sto definendo lo user service a livello globale dell'applicazione quindi se voglio sovrascriverlo posso farlo come vi ho fatto vedere prima quindi qui e adesso abbiamo messo questo possiamo mettere anche questi due e metterli qui dentro ok property assignment vediamo un po' che cosa ho dimenticato ah sì certo perfetto salviamo property assignment continuo a dare errore vediamo un po' alla riga 15 ah certo per forza ecco ok adesso riscrivo Milano facciamo la ricerca continua a funzionare però questo punto è a livello di app config quindi avremo tutta quanta la configurazione qui all'interno ok avete visto come ad esempio anche strutturare usando delle classi astratte quindi generalizzare e poi implementare le classi e come vi dicevo tanti ad esempio invece di string qui mettono any e via dicendo io preferisco nella mia esperienza ma questo credo che anche Fabio lo confermerà avere tutto tipizzato anche perché se non fosse tutto tipizzato perché lo usi typescript typescript si chiama typescript proprio perché tipizzato quindi a fronte di assolutamente d'accordo a fronte di poco tempo posso tipizzare le variabili e avere degli errori a compile time non a run time e questo l'importante è che così gli errori li becco io quando sto compilando e non l'utente quando lo sta usando quando lo sta utilizzando supponiamo quindi di creare un nuovo servizio quindi ritorniamo al nostro ad service creiamo un nuovo servizio che chiameremo ap address service punto ap 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 address punto service punto ts ok anzi no questa volta ve lo faccio creare la linea di comando che non ve l'ho fatto vedere l'ho sempre fatto vedere come si creava questa volta ve lo faccio vedere la linea di comando mi sposto dentro app dentro i servizi magari se chiudo così si vede un po' meglio ok ng g come sapete questo è l'abbreviazione di generate s servizio e quindi ap ap e basta perché lui aggiungerà poi service se vi ricordate questo progetto l'abbiamo creato senza il test e quindi ha creato soltanto ap service punto ts ok quindi in questo grazie a risposte scusate mi ero allontanato eh vabbè ti sei perso un pezzo del corso lo rivedrai ok qui cosa faccio quindi faccio la stessa cosa che ho fatto nel log and service quindi in questo caso ho la registrazione eh usiamo la stessa cosa ad esempio qui mettiamo ap base address base ap address ok qui facciamo l'update quindi qui ap address qui ci mettiamo la stringa e così abbiamo il nostro mettiamolo un po' in ordine ok e qui abbiamo il nostro ap address quindi ad esempio se volessimo creare una nuova un'api che ne so get una si una get che ne so users supponiamo qui potrei usare vabbè una lista una lista users adesso qui ovviamente non sta creando niente che è una lista sto scrivendo in c sharp un po' di confusione una lista di utenti ok potrei usare l'api address per fare poi la mia la mia query però se questo ad esempio fosse il mock qui potrei mocare la risposta quindi supponendo di avere una lista di indirizzi qui potrei avere una lista di indirizzi andiamo a farlo ok quindi lasciamo perdere un attimo l'api service è lo tanto per farvi vedere andiamo a implementare ad aggiornare un pochino questo questo address service ok ora avevamo fatto la ricerca di indirizzo quando viene ricercato ce l'abbiamo qui questo è la get ricerca però ad esempio possiamo memorizzarci tutte le ricerche che ha fatto il nostro utente quindi possiamo creare una lista indirizzi indirizzi ricercati due punti facciamo un array di che cosa ad esempio possiamo mettere delle etichette quindi facciamo un array di string ok così facciamo vedere una sorta di list di history degli indirizzi che ha ricercato l'utente quindi mettiamo la lista di indirizzi quando viene ricercato qui facciamo bis.list indirizzi .push di che cosa nel nostro result .label quindi qui abbiamo la nostra lista degli indirizzi ricercati andiamo a modificare un attimino la nostra interfaccia ok quindi andiamo nel nostro left component andiamo qui qui abbiamo l'address service che è di tipo privato ora faccio questa cosa rendo pubblico l'address service poi vado nel componente nell'avvio del componente e a questo punto come vi ho fatto vedere dall'altra posta facciamo una lista dove mettiamo una direttiva strutturale se vi ricordate anzi questa volta la facciamo con un nuovo mail col por indirizzo of address service punto no indirizzo ricercato ok fatemi vedere eh certo se questo è privato vabbè lasciamolo pubblico per il momento in realtà non lo farei così address service punto list indirizzi ricercati facciamo il track con l'index e a questo punto facciamo il binding di indirizzo indirizzo ok ora se io circo Milano faccio la ricerca ovviamente non funziona niente come al solito andiamo a vedere viste liste indirizzi address service che strano liste indirizzi ricercati qua il push non è che l'ho sovrascritto vediamo un po' andiamo a vedere qui abbiamo questo import address service ok address service qui facciamo il for qui facciamo l'injet fatemi vedere liste indirizzi andiamo a fare un binding come vi ho fatto vedere in questo caso ad esempio per capire cosa c'è che non va che faccio mi stampo il json ovviamente qui mi dice di importarlo quindi andiamo a vedere left component ok common module ok andiamo a vedere stampa qualcosa non stampa niente se c'è qualcosa che mi sfugge adesso lo vedo vediamo continuano indirizzarlo result label andiamo a metterci anche un 1 questo è il bello della diretta piano niente no non lo registra visto indirizzi ricercati ne crea uno solo facciamo così logger due punti minimal logger quindi lo iniettiamo all'interno del servizio andiamo a farci una stampa visto che ce l'abbiamo il servizio logger logger aggiunto inghilizzo e poi ci aggiungiamo result label vediamo se lo raggiunge eh sì certo abbiamo fatto ad una cosa vediamo un po' giustante premuto aggiunto indirizzo proprio non arriva ah giusto ragazzi ma perché non me lo dite qui avevamo rimesso di nuovo l'on search address vi ricordate qui bisogna notificarlo al servizio quindi qui dobbiamo riabilitare questa cosa ok perché l'abbiamo cambiato adesso vi metto Milano faccio la ricerca giustamente continuano a non andare fatemi vedere spostiamolo sopra ah no adesso l'ho fatto vedere guardate eccolo qua Milano poi se metto Venezia faccio la ricerca secondo elemento allora andiamo a pulire l'interfaccia questo non ci serve più ok andiamo a definirlo anche qui dentro andiamo a definirlo non qui dentro ma nel nostro servizio che avevamo messo il push questo lo possiamo togliere ok perfetto ora se metto Milano abbiamo Milano Lombardia è quello che ci viene ritornato dal servizio vedete ho pure il logger qui sotto se io metto Venezia faccio la ricerca mi aggiunge i vari indirizzi e questo lo faccio con un unico servizio ovviamente visto che in address service ho la lista degli indirizzi in questo caso ho soltanto le etichette no però posso fare invece proprio tutto quanto l'oggetto quindi prendiamo tutto quanto l'oggetto lo mettiamo qui ovviamente senza result perché qui avremo un number long niente anche stasera number questa è una stringa ok qui metteremo proprio il push di tutto quanto result dobbiamo mettere di questo ok lo andiamo a ricreare non ho ancora creato l'interfaccia e se volete lo possiamo fare anche adesso ok questa interfaccia vedete questo questo type continuo a duplicarlo in realtà la cosa più corretta sarebbe quello di fare un'interfaccia e lo facciamo in questo momento perché altrimenti dobbiamo sempre replicare sempre la stessa cosa quindi andiamo a creare una nuova cartella qui che chiameremo models qui andiamo a creare un altro file che chiameremo address .dto.ts andiamo a creare la nostra interfaccia export interface indirizzo indirizzo ok quindi abbiamo questa interfaccia a questo punto possiamo utilizzarla nei nostri servizi componenti così siamo sicuri che è sempre la stessa cosa da notare che quando definiamo l'interfaccia dobbiamo metterci l'export che significa che la esportiamo quindi la possiamo usare anche in altre classi quindi indirizzo questo è un indirizzo qui avremo l'istanza dell'indirizzo qui faremo il push ok qui invece di fare la duplicazione possiamo fare con lo spread operator così bis punto indirizzo ricercato così cloniamo l'oggetto che è presente in questa variabile ce l'abbiamo nella lista degli indirizzi ora se io cerco Milano faccio cerca ci avrò l'oggetto qui ovviamente perché prima era una variabile string adesso è un oggetto quindi andiamo ad aggiornare anche il nostro componente left qui non sarà indirizzo ma sarà con la label vedete definendo l'interfaccia e definendo il tipo l'intellisense ci viene in aiuto ci dà la lista delle proprietà che è presente in lista indirizzi ricercati ok quindi andiamo a riprovare Milano facciamo cerca abbiamo la lista qui degli indirizzi cosa usiamo perché stiamo facendo questa cosa perché a questo punto nella nostra direttiva che andava a prendersi in input se vi ricordate il center to map il center to map lo possiamo lasciare però i marker magari li evitiamo ok quindi vediamo di fare in modo che i marker vengano creati soltanto dal in base al servizio ok quindi creiamo una nuova funzione private crea marker di tipo void cosa dobbiamo fare a questo punto non faremo più il clear postiamolo qui adesso lo sistemiamo quindi quando faremo il center to map faremo anche un vis.creamarker markers magari al plurale visto che ne creeremo più di uno creamarkers cosa vogliamo fare vogliamo tanto iniettare il servizio che abbiamo appena creato proprio per utilizzare la logica quindi qui definiamo private address service uguale inject address service ok andiamo a importarlo vediamo se ce la possiamo fare perfetto quindi this.add service posto punto lista indirizzi ricercati perché questo qui è il nostro array punto for each quindi indirizzo ricercato e ci andiamo a creare il nostro marker con ir r e ora abbiamo diviso un attimo la logica della nostra direttiva usiamo questo punto il servizio ok io scrivo qui Milano facciamo la ricerca mi appare il marker mettiamo Venezia facciamo la ricerca e il marker rimane ok ora aggiungiamo una nuova funzionalità che è quella della rimozione dei marker come vedete qui adesso ne ho due ok abbiamo la lista qui delle ricerche che abbiamo fatto i marker che sono stati ricercati aggiungiamo aggiungiamo una nuova funzionalità nel left component mettiamo un altro bottone e lo chiamiamo senza il disabled perché possiamo anche metterlo il disabled quando vabbè siamo così pulisci marker on clear marker ovviamente devo definire la funzione ok questo ormai avete capito come funziona il click prende l'evento lo passa al controller ok magari lo stilizziamo un pochino visto che abbiamo tilewind quindi facciamo un div e facciamo le classi gli diciamo che è un flex flex row flex gli diamo un po' di gap tra i due pulsanti vediamo un po' un clear marker ad esempio bisogna salvare tutto ok diciamo che insomma è abbastanza sì dai ci può stare e abbiamo il address service disabilitiamo il pulsante nel caso in cui non ci sia nessun indirizzo quindi possiamo mettere disabled uguale address service punto list indirizzi ricercati punto length è zero salviamo adesso se si abilita se adesso cerco un pulsante un indirizzo si abilita il marker ok alla pressione di questo dobbiamo andare a pulire la lista di address service ora come si fa andiamo su address service qui creeremo un nuovo metodo clear anzi sono in italiano anche se non si può vedere tanti puristi mi direbbero no l'italiano si deve usare tutto quanto in inglese vabbè pulisci lista indirizzi ricercati avoid e qui faremo nient'altro che un list list punto indirizzi ricercati è uguale quadra quadra ora vedrete cosa succede ok quindi andiamo a invocarlo quindi quando left compone fa clear marker certo che metà in inglese metà in italiano proprio non sto scrivendo dell'ottimo codice ok vis.adelservice.pulisci indirizzo di ricerca e cercati ok e abbiamo fatto il nostro il nostro metodo ok adesso se io faccio Milano cerca si abilita il pulsante mettiamo Brescia cerca me lo fa vedere ok ora se io qui adesso faccio pulisci marker si è pulito la lista ovviamente perché attento che il prof albarelli ti osserva ok va bene grazie stavo dicendo la lista si è pulita però i marker continuano a rimanere perché siccome lo stiamo usando RxJS dobbiamo notificare alla direttiva che c'è stato un cambiamento cioè la direttiva qui perché a rimarca dobbiamo invocare qualche cosa il Cria markers ad esempio no e quindi dobbiamo notificare che c'è un cambiamento adesso io scrivo qualcos'altro ad esempio qui scrivo vediamo cosa possiamo vedere Cremona Cremona e faccio cerca ok ha messo il marker su Cremona e ha tolto via gli altri due marker perché perché è arrivata la notifica del center to map quindi ha sentito poi la notifica ha fatto questo crea markers nella lista del servizio era vuoto e quindi ne ha creato uno solo che è quello che vediamo in questo momento ovviamente questo questo address service potrebbe essere anche diciamo moccato no ad esempio sull'address service potrei dirgli anche potrei fare una cerca no facciamo text search address ok anzi no facciamo proprio un servizio set a parte che ce l'ho già qua eccolo qua abbiamo l'indirizzo passato alla variabile cos'è che possiamo fare ad esempio in questo address service questo è l'indirizzo possiamo creare una variabile che è indirizzo indirizzo di ricerca di tipo stringa qui togliamo via indirizzo perché ce l'abbiamo a questo punto qui dentro troppo ok qui lo mettiamo con uguale apice apice quindi qui l'abbiamo tolto e qui possiamo fare l'indirizzo di ricerca ok quindi tutto quanto qui all'interno non devo passare variabili all'interno della function adesso io salvo vai in errore andiamo a beccarlo andiamo nel primo eccolo qui andiamo qua qui mi dice ovviamente che questo ricerca indirizzo è sbagliato lo andiamo a eliminare andiamo a eliminare anche questo e qui facciamo piece.addresservice punto indirizzo di ricerca ovviamente i nomi sono un po' infelici indirizzo di ricerca ok nel left component qui dà un errore perché cerca su test search quindi andiamo a prendere il nostro servizio address service punto indirizzo di ricerca e qui facciamo la stessa cosa ok vantaggi non ne vedete ma se adesso vado nel mio address service e ad esempio avessi qui un servizio che mi dà l'ultimo indirizzo ricercato e adesso faccio salva vedete che ho Milano oppure senza che ogni volta io scrivo Milano Brescia eccetera potrei prepararmi un mock di questo servizio per avere già dei dati pronti quindi io basta che faccio cerca e ho finito e vedo il risultato questo ad esempio quando andremo ad affrontare i form senza dover ogni volta riempire l'intero form o andare a fare sempre la stessa chiamata che magari il back end non c'è eccetera posso crearmi dei servizi di mock come ho fatto vedere prima possiamo cambiarli sulla base delle nostre esigenze potremmo avere ad esempio più diversi servizi con dei dati già preparati proprio per andare a testare la nostra interfaccia ok qui ho cambiato l'indirizzo ricercato con output di tipo indirizzo output è sempre signal tipizzato sull'interfaccia che abbiamo creato l'alias qui in realtà non serve ecco possiamo anche eliminarla l'applicazione compila e continua a funzionare in realtà qui sto usando signal quindi ad esempio su left component potrei fare questa cosa qui nella view potrei mettere ad esempio qui ciao giù una rotta grazie del follow e qui potrei mettere un bel div anzi facciamo un paragrafo ok ho scritto vabbè facciamo data binding con indirizzo ricercato punto label ad esempio adesso è giusto perché questo qui è un output quindi non posso farlo è giusto però come vedete anche se lo definisco come output continua a funzionare posso poi aggiornarlo come con le mit come abbiamo visto si ho detto una minchiata qui ok come anche gli input su l'app component dov'è qui dovrebbe esserci un input no no perché questo qui è soltanto nell'on e basta ok ragazzi vi ringrazio a tutti buona serata fate delle prove se poi volete condividerle anche con noi magari le vediamo assieme possiamo vedere un po' di codice assieme vi ringrazio ciao a tutti buona serata alla prossima ciao a tutti Grazie a tutti